ma viste come voi sono a casa ho pensato di fare i cocktail che faccio solitamente nel bar però in questa confezione e portarveli a casa vi spiego subito come si fa si prende la confezione mettiamo un po di ghiaccio perché più ghiaccio c'è più l'attività rimane fredda penso di fare un spritz campari visto che siamo arrivati prendo il mio campari metto sempre nella bustina il prosecco un golcino d'acqua prendiamo la nostra fettina d'arancia e guidiamo questa bustina non fa cadere nulla vi do anche la cannuccia e ve lo porto a casa vi trovate anche su www.consegnaperte.it ciao a tutti adesso andiamo a consegnare grazie a tutti